Ci sono voluti due richiami ufficiali da parte di Ato Toscana Sud, ma alla fine sembra che l'affaire rifiuti sarà risolto. È infatti con un comunicato ufficiale che Sei Toscana annuncia servizi extra per la raccolta dei rifiuti che negli ultimi giorni, in seguito al licenziamento dei lavoratori interinali, aveva subito un pesante stop. Queste le ripercussioni in vari comuni della Rettino e del Senese. Sei Toscana si legge nel comunicato a seguito della segnalazione di alcune criticità che hanno interessato una decina di comuni del territorio servito, ha predisposto per questo weekend una serie di servizi straordinari di raccolta e spazzamento. Dunque, nei giorni di sabato 11 e domenica 12 agosto, il personale del gestore effettuerà interventi extra per garantire il ripristino completo dei servizi, dando priorità a quei comuni che hanno manifestato le criticità maggiori. Il servizio proseguirà anche oltre gli orari consentiti, garantendo in tal modo il ritorno alla normalità. Il gestore infine chiude il comunicato, scusandosi per le circoscritte e definite criticità, ravvisa che non sia mai venuta meno la piena continuità del servizio.